Ministro, buongiorno. Qual è l'auspicio che facciamo a Forza Italia per questo congresso? L'auspicio è quello di realizzare esattamente la ragione di questo congresso, che è quello di ritrovarci insieme per ribadire il ruolo di Forza Italia nel governo nazionale e in Europa. Questo è il primo congresso dopo la morte del Presidente Berlusconi. È importante aver trovato un momento per stare insieme, per condividere l'impegno a proseguire nel percorso tracciato dal Presidente Berlusconi nei 30 anni precedenti. E quindi questo è un momento che simbolicamente rappresenta la volontà di esserci, di continuare ad esserci e di continuare ad essere protagonisti. Grazie.